Tutti sono un po' vicino Non ce n'è covid, non ce n'è covid Oh ma tu ce l'hai la mascherina? Certo E te? Ah fai alzare il mazzo Alzami il mazzo Quanto pesa? Quanto voglio Insomma se hai vinto cosa era bisogna metterci la macchina perché si sa che i mazzi rota sono i più studici di tutti, vanno sanificati Ritorneremo prima o dopo Va va portalo fuori Grazie Presidente Grazie a tutti